Buongiorno amici e amiche, questa mattina con le telecamere di Napoli News Magazine e Synapse News siamo all'interno dello studio meraviglioso di Barbara Karboska, polacca di nascita ma napoletana di adozione, sono ben 26 anni che Barbara è qui a Napoli ed esprime la sua meravigliosissima arte sentiamo dalla sua voce da cosa nasce, cosa la ispira e perché dipinge anche i numeri della tombola napoletana seguite il servizio Barbara buongiorno, innanzitutto grazie per averci ospitato questa mattina nel tuo bellissimo studio devo dire molto 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 affascinante ma anche molto particolare esprimi un'arte pittorica veramente straordinaria ma anche molto singolare cosa ti ispira Barbara? mi ispira soprattutto la gente di Napoli sono ormai più di 25 anni che dipingo personaggi napolitani che in qualche modo ho avuto fortuna di conoscerli oltre ai personaggi mi ispiro dei luoghi napolitani per esempio come l'Agnificio 25 i tetti di Napoli, il colore rosso, rosso pompeiano di palazzi napolitani Barbara ci ha fatto vedere una cosa che è unica nella sua specie Barbara, i numeri della tombola napoletana, come nasce questa idea? questa idea è nata quasi per caso e per gioco circa due anni fa è venuta a trovarmi nello studio una giovane giornalista e poetessa Emilia Sensale dopo intervista lei ha desiderato di essere ritratta da me allora ha cominciato a fare il servizio fotografico però mi mancava qualcosa lei stava vicino a una tavola su quella ce l'ha appoggiato sempre panariello con tutti i tombolini è venuta così a improvviso idea ha detto Emilia ripesca un numero e ti faccio in qualche modo associare questo numero al tuo ritratto lei ha ripescato il primo numero la funne in ganna allora ha detto no, non voglio essere dipinta con un numero così allora ho pensato va bene, allora ti do tre possibilità ripesca altre due volte, alla fine lei ha scelto il numero 56 che significa la caduta è così nato il primo ritratto tombolato poi per la sua richiesta l'ho esposto nella antica pasticceria napolitana in via Tribunali di Guglielmo Mazzaro questa presentazione di questo quadro, di questa pasticceria è piaciuta a tante persone è come questa richiesta di ritrati tombolati non solo numeri, non solo estrazioni, anche meravigliosi centrini da tavola dell'antica tradizione napoletana ma non solo Barbara come nasce questa idea? allora questa idea nasce un po' ritornando ai miei ricordi della mia infanzia nella casa del mio marito c'era un tavolo coperto di tradizionale tovaglia fatta a merletta all'uncinetto, io lavoravo molto vicino a questo tavolo spesso appoggiavo le fotografie dei miei quadri e un giorno ho notato una bella composizione con questo centrino e immagini dei miei quadri ho deciso di inserire sulle mie tele composizioni decorativi Grazie per la visione!